Non sono sorpresi più di tanto a Casa San Benedetto per la conferma del provvedimento con cui l'amministrazione comunale il 31 dicembre cesserà la convenzione per l'ospitalità dei minorenni accolti nella casa del Don Calabria. La cosa era annunciata da tempo anche in considerazione del fatto che a Verona, come in tante altre città italiane, l'ospitalità verso chi arriva da luoghi di guerra e di violenza non ha visto un altrettanto impegno a livello istituzionale più alto. E allora cosa succederà? Il rischio è semplice, non è possibile abbandonare, metto tra virgolette, minorenni in situazione di tutela minorile di fatto perché quelli che chiamiamo minori stranieri non accompagnati sono minorenni privi di assistenza parentale per cui indipendentemente dalla situazione del governo e dei vari comuni noi strutture tutelari dobbiamo occuparci ancora indipendentemente dall'impegno del comune e o dell'attuale governo. C'è uno scarico fortissimo di welfare a riguardo al privato sociale che però terrà finché può tenere. In tutte le crisi di tipo economico finanziario si scarica sui più deboli, questo ne è un esempio. Per cui credo che comunque al di là della singola posizione del comune di Verona in questo caso e di altri comuni si arrivi a concertare una soluzione che tenga presente le responsabilità a tutti i livelli istituzionali e anche del privato sociale. Casa San Benedetto è un soggetto della grande famiglia dell'Istituto Don Calabria che da sempre ha nel proprio DNA l'accoglienza dei minori in difficoltà. Lo stesso San Giovanni Calabria all'inizio del Novecento iniziò la sua attività proprio con i più piccoli e diseredati. Una struttura questa a Casa San Benedetto che si rifà il grande carisma di San Giovanni Calabria che se non ci fosse bisognerebbe inventarla? Da questo punto di vista credo di sì. Offriamo un'accoglienza immediata. Le questure ci portano, i minorenni che trovano in situazioni di abbandono per cui credo che bisognerebbe inventarla o costruirne una simile. Qual è la situazione di Verona da questo punto di vista? Buona la risposta, buona è la presenza delle istituzioni a tutti i livelli. Credo che sia una situazione l'attuale che risente di una difficoltà sia a livello governativo sia a livello di risorse dell'ente locale. Fino ad oggi direi che il Comune di Verona ha rispettato il proprio impegno anzi dando un'apertura anche a tanti ragazzi che non erano su questo territorio.